È un cavallo tedesco che ho da un anno più o meno, è il primo gran premio impegnativo che affronta e ha saltato veramente tutti e due i percorsi fantastico, penso che sia un buon cavallo e sono veramente contento del risultato di oggi perché comunque dopo un po' di lavoro così si iniziano a vedere i risultati e quindi sono felicissimo. Montavo 7 cavalli e sono andati anche bene, mancava solo la vittoria perché ero arrivato tre volte secondo, due volte terzo, però così perlomeno abbiamo chiuso in bellezza e è stata una bella emozione. Il posto è meraviglioso, il più bel concorso della stagione è questo qua di Castiglioncello, io vengo tutti gli anni e i clienti mi obbligano a venire a fare il concorso qua perché si divertono tutti, stanno benissimo e anche l'organizzazione è perfetta, sono gentilissimi. Penso che un concorso più bello, più rilassante e più a misura anche di famiglia, se uno vuole portare bambini non ci sia, quindi venite qua a Castiglioncello che si sta benissimo.